Siamo a commentare una vittoria netta contro Lucca, ci siamo ripresi da una sconfitta che abbiamo subito in trasferta a Siena, abbiamo fatto una partita con buone giocate, buone percentuali, molto contropiede e questo modo di giocare in campo aperto sicuramente ci agevola perché riusciamo a mettere in campo le nostre abilità atletiche e quindi abbiamo fatto una buona partita, conducevamo già di 16 punti all'intervallo, le nostre percentuali di altri punti sono state un po' alterne però oggi abbiamo avuto la pazienza anche di passarci il pallone e di andare a trovare anche qualche soluzione vicino al canestro. Ora dobbiamo stare molto concentrati perché la settimana prossima giochiamo nuovamente in casa a Castelfrentino, il campionato è molto lungo, noi dobbiamo cercare di piazzarci meglio possibile per poi giocarci tutto ai playoff.